Ai nostri microfoni Vincenzo L'Antonio, M, Italia Tavola, un amico della Puglia, tante esperienze insieme nella questa bellissima terra. Ci dai un po' un tuo quadro, un tuo parere sul vigneto Puglia? Allora, il vigneto Puglia innanzitutto è l'emblema del Mediterraneo, vorrei dire non sarebbe vigneto se adesso non si frammischiasse l'oliveto, quindi laddove all'olivo si abbraccia la vita, ecco l'apoteosi della Puglia. Nell'ambito dell'unicità della Puglia le sue differenze dalla Daunia al Salento, dal Bombino al Negramaro passando per il Primitivo, insomma un tesoro dell'intero bacino Mediterraneo. E in questo tesoro ci sono tantissimi gioielli ma generalmente qualcuno rimane un po' più caro degli altri. Tu hai una qualche passione nascosta fra i vini pugliesi? Allora, il più rude, il più nascosto, ma quello che è alla ruvidezza mette magicamente insieme l'eleganza, il Negramaro. Sicuramente sì, il Negramaro perché è un vigneto, è un vitigno magico, è un vitigno magico e sa regalare grandi emozioni, grandi vini e credo sia l'emblema della terra salentina per la sua genuinità, per la sua schiettezza, per la sua ruvidezza. Perfetto. Vincenzo, un'ultima domanda, un consiglio, se hai un consiglio da dare ai produttori pugliesi? Semplicemente perseverare nella sfida al top della qualità e perseverare nel loro fare sistema che è un qualche cosa di meraviglioso nell'ambito della realtà meridionale che purtroppo non sempre riesce a fare sistema. Anzi, addirittura che siano da sprone per le altre vitigni culture dell'Italia meridionale pugliesi.